Questo è il primo box break che in un certo senso manifesta il mio interesse per questa rubrichetta dato che io posseggo già l'oggetto in questione ma lo posseggo in un... vabbè capirete tutto quando vi mostrerò cosa vi ho portato a far vedere è qualcosa che posseggo già comunque Primissimo album di figurine dei Pokémon vuoto con box da 100 pacchetti di figurine pieno nuovo andremo a scartare le figurine e ad appiccicarle nell'album Quest'album nasce dalla volontà di Topps appunto di inseguire il mito della Pokémon mania che stava esplodendo in quegli anni e sono stati presi artwork di stock dell'anime più delle piccole chicchette per realizzare un album di figurine un album di figurine appunto dedicato tutto ai Pokémon questo album era veramente ambitissimo da tutti tant'è che ce l'avevano tutti tranne ovviamente il sottoscritto questo dovrebbe essere nuovo gli ho dato un'occhiata quando ho aperto il pacco per la prima volta questo vino in Inghilterra costava una sterlina e 49 c'è solamente una piccola bottarella qui sì ma per il resto è tenuto veramente veramente bene non c'ha un graffio non c'ha nulla è in inglese non l'ho trovato in italiano però va bene dai ecco qua qui abbiamo la checklist delle figurine e poi abbiamo l'introduzione all'album il tuo decimo compleanno è veramente eccitante perché se vivi è veramente eccitante se vivi a Pallettà o a Biancavilla perché puoi iniziare a collezionare i Pokémon i bambini prendono la loro patente Pokémon sì sì per diventare allenatori e dopo vanno a visitare il Professor Oak al centro di ricerca Pokémon per prendere un Pokémon gratis il regalo questo Pokémon è il primo dei tanti Pokémon per i bambini di Biancavilla ce ne sono 150 da trovare non è vero da allenare da scambiare e da mandare in battaglia e vabbè le solite cazzate e poi prenderai il cazzo di Pokémon Master però io me le ricordavo forse perché ero proprio piccolo le figurine me le ricordavo molto più grandi esattamente così piccole così sono piccolissime queste figurine sono medie in realtà non sono così piccole amore allora innanzitutto vediamo che c'è questo belle decorazioni queste decorazioni molto anni 90 queste linee che hanno lasciate per però questi artwork che sono speciali allora questi sono artwork di stock dell'anime però io tipo questo di Caterpie che si tuffa nella fossa non l'ho mai visto vabbè qui abbiamo un box anche questo nuovo di pacca box break è proprio totale e noi ragazzi purtroppo box da 100 miliardi di euro non ce l'abbiamo abbiamo questa qui che costa decisamente molto meno no vabbè pacchetti figurine però ragazzi che belli belli gonfi fieri madonna rossi madonna che figli guardate che belli guardate che meravigli ricordi cazzo te allora allora ci sono due tecniche la tecnica moch e la tecnica becci la tecnica becci ovviamente è quella più precisa e funzionale la tecnica moch è quella più cazzona ma divertente la tecnica moch è appiccichiamo quello che troviamo e i doppi li scartiamo la tecnica becci è scartarli tutti mettili in ordine di numero e poi attaccare per non rovinare l'album anche io faccio così eh ho capito però non è divertente io le apro tutte poi le metto in ordine e poi dopo le attacco in ordine ma non è divertente però amore è un per me divertente ma no perché giri le pagine esplori scusa così invece è un po' più no vai in ordine e scopri l'album nella sua in poll ragazzi poll in chat tecnica becci o tecnica moch vai mod aprite in poll e votate ragazzi tra l'altro mi ricordo ancora amore che quando abbiamo comprato degli album recentemente ti incazzavi perché io non potremmo non mi fidavo ancora di te ma adesso mi fido ciecamente infatti le faccio attaccare a te no no a me a me si 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 ah ok aspetta levo sto tappetino di merda che tanto rompe solo i coglioni come faccio a far vedere ah così 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 tanto metto a fuoco lui ti preoccupai tutto in automatico tranquilla Vaporeon Vaporeon subito sono rimaste incollate vedi no no vedi no ma non succede niente non succede niente vediamola intanto sta andando avanti il pool tecnica moch sta vincendo sono rimaste appiccicate ah allora io mi ricordo che c'era ma sono gli sfondi si perché gli sfondi rappresentavano il tipo quindi c'era i vaporeon questo è il tipo acqua sono i triangolini questo è il tipo acqua questo è normale si quando non c'era ancora il folletto questo è il fuoco ma per quale motivo acqua ma questo moltres questo sembra proprio un piccione un fa amore eccolo lì bello tutti gli occhi storti è briao è brutto orrendo ecco ah qui c'è allora questo lasciamo un attimo perché qui c'è uno degli errori più grandi del mondo della memorabilia pokemon eh vedrai vedrai vai avanti vai avanti che poi gli hanno dato il tipo normale quando è credo sia volante è normale è normale no Doduo è anche volante credo no Doduo è normale oddio sbaglio sto sbagliando così tanto vabbè andiamo avanti Raichu Raichu normale volante vedi che mi fai venire i dubbi questo è terra può essere volante che non è reale ma cosa scende non c'è loide no vabbè comunque questo è sensual col tipo terra che ha fiorellini vabbè comunque hanno detto tecnica mocia quindi tecnica mocia allora ci sono anche le special non hai trovato neanche una special amore per ora attenzione un attimo vuoi attaccare tieni vai vai no no attaccati ti amore ma come attacco io ci metti tre ore ok attacchiamo lì ma sono piccolissime madonna che impressione ma sono leggermente più grosse del riquadro poi l'attacchiamo da sotto perfettamente precise eh è lì tocca vabbè amore entrasci dentro grazie a Giota Cuccio per i cento pippoli a Liman mille centodiette don carcarlo mago base base chi geno scarotone vai vai amore te vai si si ora moltres lasciamolo per ultimo perché vengono dopo però il 35 lo puoi già attaccando è qui però è sempre bello da vedere è molto tamarro però è bellino l'altro è proprio è un po' tamarro però a questo tempo è anche molto non cheap però è molto semplice capito cioè non è che ci sia beh insomma di elementi ce n'è tanti eh sì però non lo so cioè comunque sono tutte forme geometriche pallini rombi linee quindi poi queste descrizioni ormai le abbiamo imparate a memoria non sempre le stesse qua ci hanno aggiunto pokemon abbiamo ritmo lì che ho scritto pokemon sì perché c'è bisogno sempre di specificarlo questo è il tipo veleno palline ovali ovali simile ovuli di cocaina forse si riferivano a quello chissà poliwag POV cioè che ti sta guardando mentre ti sta per fare un rocchettone mashup questo è stato messo ovunque ovunque che poi sono quelli di sugimori che hanno semplicemente reso anime e basta l'hanno ricaricati fruttissimi fra l'altro firefish è bellino è carino con scritto sempre pokemon e poi parasect con questa è la roba dell'evoluzione capito ah ecco permettici più figurine e fatti sbustare di più ok allora vediamo mettiamo wakans dovrebbe essere qua da qualche parte ho un'idea a ogni pokemon che sbustiamo posso fare l'uso verso vada amore è un'idea che apprezzo ma che rigetto per motivi di tempo capito amore mentre le attacchi non hanno perso un minimo del potere collante guardate che precisione ragazzi chi le attacca è figurino che nessuno ormai è possibile io ho imparato ho imparato la sua tecnica e adesso le so attaccare qual è la mia tecnica amore partire da sotto nella linea poi tirarle su vabbè poi partire anche da sopra questo sta vomitando no ho sparato vabbè lui sai un attimo di poi partire anche da sopra ma ti viene peggio invece Masha funziona tantissimo di che anno sono questi saranno come al solito 99-2000 ecco beh vedi già è rotto? no ora l'ho fatto rotto via ho fatto così tocca buttare via tutto ragazzi dicevo questo sfondo è già più carino ci hanno messo 2000 ci hanno messo un pattern di pikachu bellino questo pattern di pikachu ma perché metterlo qui vabbè ti aiuto flettiamolo meglio così ti viene meglio non creiamo bolle attenzione le bolle sono a portata sempre di mano quando si ecco vedi dove sta stessa no ragazzi purtroppo ragazzi è stata licenziata va bene ma ce l'hai già cosa ti vuoi ma è importante averne uno o un altro per sicurezza sai investire it molly mio fratello it molly magari si vede un po' sotto com'è un pochino si c'è un artwork dove si vede il sotto che è fake però si però ci sta è probabile che sia così è un altro sauro cioè era pieno di sauri la prima generazione di sauri come li vuoi chiamare attento che ah già qui c'era il poster che non verrà staccato mai nella vita cercheremo di attaccare questo è tutto fatto di speciali c'erano i grandi protagonisti un speciale no amore questa no non citare cose morte 134 carino guarda l'arion che dorme è ispirato ricordiamolo a tutti a un volpino di pomerane infatti un giorno l'altro giorno ho condiviso una roba di espion e umbron guarda come mi sta storta no si un pochino ma va bene sono errori umani sono errori umani sono errori umani postai una cosa di espion e umbron e dissi questi gattacci e c'erano mi contattò incazzato nero su instagram e mi disse non sono gatti che cazzo dici non sono gatti io ho condiviso a tutte le fonti ho detto guarda si sono gatti mi spiace io ho detto perché si ispirano proprio ai yokai che sono dei gatti bolle no tocca via no mi sta perfetto questo è perfetto incazzato come un mostro eh allora ecco amore ti calmi questa è la sezione delle evoluzioni che è pieno di amenità e questo è un problema no 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 ma più che altro perché ci sono delle cazzate pazzesche tipo itmoli che si evolve in itmonchan e farfece che si evolve in nodu eh per forza questo non me lo ricordo eh vedrai vedrai lo fanno lo fanno un'altra caratteristica del metodo becci le doppie esatto le doppie assolutamente non si possono attaccare distante cioè divise divise ma bisogna prima trovarle tutte e poi completare l'illustrazione con dovizia di particolare c'è ragione il becci ma il becci non si riverte non si è divertito con questo album mentre noi vedi come esploriamo l'album andiamo a studiarlo ecco farfece si evolve in dodu e in dodrio vedi becci che si entra boh l'hanno visto accanto nel pokédex hanno visto che uno c'ha una testa un altro due e l'altro tre ha detto va forse sarà così e in realtà e vabbè guardatelo così però guarda com'è fiero ecco dada perchè oh me bono zabbayone questo è dada orsi orsi è bellino lo sempre il solito artwork di giglipop lapras pokemon zubat con gli ovuli e poi rai questa rai ticket non mi dispiace come artwork sempre molto basilare però eccolo qui tra l'altro è su questa pagina quindi direi te bono zabbayone ci sono altre evoluzioni però speciali zero ma è un pack baggato baggatito eh tocca ridarlo indietro no amore ormai mi sa che non si può più fare niente paghetti pesati vedete bella la nuca di Agnese bello dico quando l'hai attaccata c'è stato un effetto sonoro particolare il fottuto giglipop posto com'è bello però eh sfogliarlo di nuovo poi quello si quello si condividere secondo te cosa sono queste decorazioni sono tutti tipi amore sono no no questi questi per il numero sembra un po' sì una forma falica però dai no 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 intendevo quello no a me sembra un tipo un un fiocco una roba da marinaio non so perché sì un nodo un po' strano orsi guarda bellino anche quello anche questo qui sì che spruzza è sudato perché non ce la fa spruzzare molto strano però una la prima speciale ragazzi vedo del brillante fermo fermo ue slowpoke volevo leggerti un attimo la descrizione di Lapras sì se ti ricordavi qua dice che è un pokemon che praticamente è stato cacciato così tanto che è quasi sì stinto lui ma allora la lore è che lui era ha mosso i Loch nes palesemente però è stato cacciato talmente tanto che si è quasi stinto e gli ultimi che sono rimasti in vita si sono nascosti perché spaventati dagli umani ma guarda che nelle descrizioni dei primi pokemon c'erano delle bestialità ma anche nei giochi stessi c'erano delle bestialità enormi che non hanno più replicato tipo Team Rocket che taglia le code agli slowpoke per vendele ma quello c'è nel gioco sì c'è nel gioco sì certo ecco a proposito abbiamo trovato la nostra piena speciale bella non è male che mi sto facendo intorno sì è una cornice fatta dai primi 151 pokemon bella mi piace una cornice molto anni 90 beh Stalakazam si è ustionata al mare oma night strabico è famosissimo c'è un occhio su uno che già boccia l'altro lo segna punti un altro slowpoke frontale e poi dragonair che anche questo è quello sugimori copiato e tanja sugimori copiato attacchiamo la brillante sì è la speciale 13 io attacco quella normale e ti attacchi quella speciale perché ti sei speciale la e no ho visto un po' no no guarda là guarda là guarda là 65 alakazam olakazam fiero chissà se riusciremo a completarlo perché se no è un casino tocca comprare le singole non ha senso non si può fare sa che fra un po' utilizzerò alla grande tieni mi rattaccata angelo la tecnica beccia perché se no è impossibile no ma poi cioè chiaramente torna torna meglio non si può dire il contrario Psyduck vabbè ci sta bellino questo Squirtle mi è sempre garbato un sacco questo c'è anche sulle top scrum no vabbè Raiorn e poi bellissimo Mew mamma mia è troppo bello Mew è veramente il popom più bello della prima generazione è bello sì troppo bello poi è tutto un fascino suo Violet Room e poi abbiamo un Arcanine questo è strano strano strato da che zamp è tutto sproporzionato bellissimo Mew 100k no non funziona proprio così ragazzi manca Charizardone me li hanno fatto nemmeno la speciale a Charizard no a Blastoise sì a Charizard sì no però a Blastoise sì un po' di riconoscimento anche agli altri dai io fra l'altro ho sempre preso il Pokémon d'acqua quindi ho sempre avuto Blastoise è sempre garbato Bulbasaur ma non ci credo amore ti giuro che non ci credo allora che ti devo dire mi garba è grosso gigantesco però io non ci credo che da piccolo lo preferivo e gli altri va bene amore perché era il Pokémon numero uno mi dava un senso mi dava fastidio vedere le prime voci del Pokédex libere quindi il primo ti dava un inizio però anche per il resto ossessione comunque vi annuncio una cosa ragazzi alla Maratona di Giugno ci sarà finalmente il mio reveal della collezione cioè vedrete la mia collezione completa di tutti gli album con tra l'altro la collaborazione di Federico De Masi mio gran maestro che verrà posta dalla Puglia dalle Puglie per per dire per rivelarvi tutte le curiosità di tutto quello che farò vedere perché non c'è solo il TCG ma ovviamente c'è anche l'altra roba che non vi ho mai fatto vedere di cui non vi ho mai parlato nemmeno per sbaglio quindi vedrete vedrete e vi informo che ogni giorno della Maratona ci saranno due ospiti diversi ma in presenza certo ci sarà il dottore che fa i tamponi quindi sì di presenza chissà se ci sarà ancora bisogno dei tamponi sì esposta è assolutamente sì ok Rairo va lì il salvatore del brand tra l'altro guarda come è bello guarda come è bello mio fratello mio sì vabbè qui apriamo tutto amore dai i doppioni iniziamo a scartarli se no è finita sono a sega quali sono i doppioni io me li ricordo questo si era già trovato no cubon un'altra brillante l'ho trovata là qui abbiamo cubon itmo chan che si evolve da itmo lì meo sai che a me è il primo meo è sempre piaciuto un botto è tutto un cazzato gloom e snorax sembrava proprio un gatto fai vedere le tue cabuto victory bello amore più giù più giù guarda bello blast eyes evoluto questo puoi mettere la pokeball vabbè un stupore per niente tremenda questa palla una palla e poi lo dactyl mac la sensu che si vabbè evoluzione bellino perché comunque scatarra i culi ivisaur da evoluzione butterfree bella quante brillanti monkey due un altro miù miù e bidri che si guardano esatto mini cazzate nero bella questa di miù questa è anche una top scrom bello bidri mamma mia lore ma non c'è lore e tanto che siamo qui mi piace scartarle posso scartarle si scartarle è divertente io ho trovato squirtle bello sto executor ma quante brillanti trovi meo brillante butterfree geridos e un venom per ora zero doppie comunque oh no ballino è tornato ragazzi ma dove e le altre sono qui amore le sto mettendo in ordine però senza guardarle perché la mia tecnica funziona così ah non le guardi no io non le guardo le guardo dietro ma i doppioni amore almeno si possono scartare li scopro dopo i doppioni che palle caterpie sidra arbuk ipno volterberg ah mi ricordo che qui c'era un elektro del stranissimo con una mini mano che lo fa saltare in aria per farti capire che se lo tocchi esplode sandlash ok tentacruel clefable con la cornice di prima guarda a volte si a volte no bello gastli fiero charmeleon magnet e oddish ok kabutops arbuk forse l'avevo già trovato ma non così questo no no questo non era eccola il primo pezzo del super quadratone la mano tangela che non avevo ancora trovato e questo executor è semplicemente più piccolo ma è lo stesso che abbiamo trovato prima oh pikachu bella iconico pikachu boh poverino stavolta io non l'ho mai visto in queste condizioni volto ponita un po' anche fiero sto ponita qua guarda è sempre stato bellissimo poi prime ape orribile questo pezzo ma non do perché poverino bello ricatto c'è questa c'è questa linea sottilissima che boh allora questa è cacuna con la cravatta bella si a parte la voda picciata al culo bella questa è la numero uno credo sai stupenda no la due stupenda metapod che a me sembrava un naso in realtà a tutti sembrava un naso invece è la zampina tipo no è la zampina così sono le due zampine frisse ah è vero si ok la parte dragonite vabbè corbuzzone bello goldak che spruzza vabbè è acqua dalla bocca cioè non è che si no spruzza dalla bocca però sembrano tutti privi di dettagli molto scarni perché sono si sono fondamentalmente come non è il naso no ragazzi non è il naso sono le due zampine non è il naso la faccia è quella quella davanti infatti è stato credo uno shock per chi l'ha scoperto poi non è il naso ragazzi non è il naso in che senso non è il naso aspettate se no è un casino ragazzi da spiegarvelo senza esempio allora praticamente la faccia ragazzi è questa questo è il muso perché poi qua c'è l'altro occhio di là c'è l'altro occhio questa è solo una zampina la zampina di destra e la zampina così è praticamente capito infanzia rovinata ma no migliorata non è il naso ok cloister poliwag da evolvere drowsy questo forse l'ho già trovato coffing poi per ora però mi sembra pochi doppi pochi pochi doppi forse zero due il pidgeot ah pidgeot era rimasto fuori guarda che è di caserta palesemente però non so questo è un altro anche se avevi quel taglio è bello sto cabuto che si vede da misterioso starmi questo forse l'abbiamo già trovato sì prime bello sto slobro super dinamico è tipo un colpo karate questo credo e poi abbiamo chermillion cioè hanno dato una speciale a chermillion boh secondo me forse c'è un charizard nel poster dai impossibile non gli abbiano dato la speciale l'abbiamo trovato charizard fra l'altro t coffing venusaur poi questo venom forse no non mi ricordo ma poi mille cornici a me non sembra che ci siano doppie per adesso sai che io sotto le doghe del mio lettino c'è scritto io ti amo ash poliwirl dove sta questo ash per curiosità poi guarda questa figurina questa è la 1 sì bella questo qualcuno se non erro ha usato mandarla a gradare non è la prima amore è la 29 è vero mi sembrava la prima mini taurus hunter bello golem visto dall'alto golbat bellino anche questo che sembra che si sia staccato dal tetto questo fa schifo eccolo qui bellissimo questo è l'electrode che sta per esplodere che qualcuno l'ha toccato ma non è molle scusa cioè sembra che è morbida eh lo so questa è una cosa stranissima chissà dove l'hanno presa è la mano di ash perché ha il guanto sì 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 si è stilizzata ma sì questa cosa scusa è come se fosse una pallina morbida uuuuh uuuuh bella che poi è veramente piccolino Mewtwo sembra gigante qua è piccolo poi l'hanno ovviamente aggiustato sì sì spiro ratini paras tutto storto bella questa bella anche sto shiter si frontale non è male rapidash pigiotto bella l'infermiera joy ma insomma un po' un po' d'erpina ma più che altro non hanno messo neanche le ombre cioè proprio flat colors e basta perché geodud da evolvere ma hai capito sto po' pikachu vabbè questo l'hanno messo ovunque zaini a poti a stucci bello stomache che figo questo è bella davvero che poca ha un preferito i sabacu ricordiamolo ok non si sa bene perché golbat e poi rapi questo è bello questo si vedeva nella sigla che faceva questa roba qua va bene torno va bene amore ciao amore alla prossima amore devo lavorare cosa ci posso fare lo so lo so grazie mille di essere passata piccolo sono stato molto felice di fare questa cosa va bene ciao ragazzi superlega merda mi scrivete in chat a me che non ho mai parlato di calcio in vita mia se non per trollare io cosa ci posso fare sulla superlega non ho i contatti per impedire che la superlega venga creata non so niente ci vorrebbe un grande intervento è tipo il cell game ragazzi mi state dando insomma informazioni un po' confuse bellino golbat che bello quest'album mia mamma me lo buttò di nascosto quando era a scuola bellissima esperienza secondo me che meraviglia io ora utilizzo tecnica becci come costruire praticamente un Gundam ragazzi insieme a voi vabbè non faccio caso dai ragazzi se no mi ero un po' coglione bene cosa ne pensi di Discord che cazzo vuol dire cosa ne penso di Discord e Masseo vuole prendere un Gundam da una cazzata ma che dite ha visto il tuo video in live ma va è vero oggi ha visto no che bello ma che meraviglia che ha visto il video di Gundam in live è pazzo bellissimo sono veramente contento anche meno Dario cosa vuol dire anche meno in che senso c'è anche meno entusiasmo ah ok un mio amico ha visto un video su cui ho buttato la vita insieme a un altro ragazzo che si chiama squilibrista che ci ha messo la vita anche lui lo vede di fronte a un pubblico totalmente nuovo che può scoprire la serie Gundam può scoprire il mio canale YouTube e non sono non devo essere contento ok vaffanculo Masseo ti permette mai più ti denuncio non si può più essere felici comunque questo è diventato un just chatting spin off con figurine non mi dispiace dudid 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 buono allora mettiamo drosi completiamo la nostra prima evoluzione è dura ci vuole calma guardate che meraviglia la perfezione porca puttana la perfezione e quindi mi dicevate che si vuole comprare un mecha cioè un mecha un gampla in pratica dai ma voglio vederla questa cosa cristo dio c'è la clip Dario vabbè la clip però Masseo vuole un gampla scusatemi io ne voglio uno porco voglio uno questo qui è bellissimo proprio è l'RX sarà bello sì ciao Dario è venuto anche Diego quindi insomma ciao Agni ciao va bene Diego se ti offrissero tanti soldi sì tipo uno studio più grande già tutto bell'arredato completo eh buona bella offerta cioè andresti a fare l'isola dei famosi no ho già risposto però a te a questa domanda e mi pare che me l'hai posta a te quindi no no perché oggi stavo guardare l'isola dei famosi e stavo a vedere Awid che è uno youtuber no boh ho sbagliato tutto bella tega bella Masullo ciao Masullo l'hai visto l'optimus prime nuovo dell'hasbro no mi fanno schifo i transformers dirò un'eresia ma mi fanno proprio schifo va bene mi fanno schifo anche a me ma l'hai visto quello nuovo te lo posso passare il video no pure a me mi fanno schifo i transformers ma quello lì in particolare l'ultimo uscito che tra l'altro costa 800 euro è pazzesco prova a costruire live e stavo pensando non è da costruire c'è tutta una tecnologia tipo Alexa che ti si muove in base ai comandi che gli dai sarebbe figo se lo implementassero nei Gundam no sarebbe figo se lo implementassero su Twitch nel senso che con i pippoli o le donazioni lo fai move con qualche script si potrebbe far tranquillamente ho visto gente che faceva giocare la chat ad una roba IRL cioè la chat comandava un robottino in IRL e gli faceva tirare le frecce su un bersaglio no ragazzi non parliamo di calcio Dario Pazzo no no anzi guarda se riesci vabbè se riesci a informare la chat cioè o comunque a dare la tua opinione perché io lo sai non ci ho capito un cazzo quindi praticamente ci sono questi altologati che hanno deciso di non hanno i soldi sono praticamente fallite tutte le società del mondo però fanno voglio fare questa superlega no qui ci vanno soltanto le elite di ogni campionato ranni quello dei sconsetà perché forse perché sono più intelligenti la UEFA e la FIFA non vogliono che si faccia questa superlega e hanno detto se voi fate la superlega non potete più fare la Champions League anche francesi dicono sì sì sono tipo circa tre squadre per ogni campionato credo solo il Paris Saint Germain della Francia e praticamente niente vogliono fare questa superlega e io sto contento perché così ci togliamo dal cazzo la Juventus l'interamina dalla Serie A e finalmente vinceranno lo scudetto da altre squadre beh Diego l'hai toccata piano eh comunque come al solito sto laggando porca troia il PC non ha io ti sto guardando in live cioè hai laggato tipo mezzo secondo sì perché te l'hai ricaricato velocemente la voce ragazzi ma non è che se io dico questa cosa d'ho per scontato che vince lo scudetto la Lazio non me ne frega un cazzo non l'avete ancora capito sto contento se lo vince l'Atalanta al Napoli di madonna ma magari lo vincesse il Napoli o l'Atalanta guarda ti dico impazzisco anche la Roma non me ne frega un cazzo basta che non lo vincono quelle tre squadre hanno rotto il cazzo cioè da non so niente di calcio ma quindi anche teso del parere che vince sempre vincono sempre le stesse squadre perché sono quelle che hanno più soldi per comprare giocatori forti e certo hanno rotto il cazzo c'è un monopolio andassero a fare le super seghe via si le super seghe un po' low tier questo super seghe tra l'altro la FIFA ha detto che non vogliono che succeda questa cosa perché di solito la FIFA vuole che tutti quanti siano inclusi che ci sia un'equità economica in tutto e quindi non vorrebbe questa cosa sarebbe tipo una specie di elite quindi non vogliono le elite vogliono una roba più equa e quindi ha detto se fate questa cosa fanno 50 miliardi di euro di multa così una roba del genere ho letto questo effetto lo grafico non è male è un po' cheap ovviamente sono figurine però belline ti giuro pagherei oro per prendere un testa di cazzo dalla chat che fa l'esperto del calcio e voglio sentirlo dire tutto quanto in maniera impeccabile appena sbaglia porco due mi ficco la tastiera nel culo no 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 prendo le distanze comunque io ho un aneddoto sull'album posso raccontarlo riguarda furtivo allora io non ho mai compreso in vita mia un album di figurine ok questo dei pokemon me ne manca una sola ancora? ancora oggi? sì sì ma in realtà poi ho smesso di cercarle però diciamo che quando all'epoca stavo per completare me ne mancava una sola qual è? che tra l'altro tu l'hai trovato però aspetta adesso ci arriviamo l'aneddoto era un mio amico di classe delle medie di all'epoca ce l'aveva doppione e disse angelo vieni a casa oggi dopo scuola ti do la figurina mancante o scuola no non penso no no c'è c'è andato vicino ha rischiato parecchio perché vado a casa sua l'epoca io ero obesissimo e mi faccio tutto tutto il tragitto da casa mia a casa sua che era tipo 40 minuti piedi salgo l'ultimo piano del suo palazzo arrivo distrutto sudatissimo morto mi prende la figurina la straccia in faccia mi dice piuttosto che farti comprare l'album la strappo ma io ma che amico di merda era ma scusa non era un grande amico effettivamente però ci si accontentava gli altri erano peggio questo era uno di migliori penso dai va veramente ma e che figurina era l'amico era caverna di padone no scherzo no però più o meno ah si la figurina era tangela ma quello brillante o quello normale normale se te lo trovo me lo metto da parte e non te lo strappo che dico poi vengo a casa tua faccio il viaggio finito lo strappo io so peggio di Maurizio Mosca sul calcio Raiden boh cioè Maurizio Mosca non ci capiva un cazzo però c'ho il pendolino grande si mettiava il pendolone le previsioni era Paolo Fox del calcio si vabbè eh pacea l'anima sua ma si è vero pazzo era pazzo ah come gioca del pieno è un Maurizio Mosca ci vuole in una live di calcio guarda io il buffone lo faccio ma devo devo controllarlo perché dopo me mi sfugge la cosa e diventa troppo un giullare no sarebbe bello in realtà il calcio porco due l'Italia è calcio cioè tutto calcio il problema però è che veramente se dobbiamo riprendere il discorso delle community no delle fanbase quella più tossica di tutto il mondo è il calcio ancora peggio micchia nel resto del mondo un po' meno ragazzi cioè gli hooligan insomma non è che siano proprio una fanbase proprio positiva del calcio non sono italiani beh si è tossicissima pensa che alcuni non mi seguono più su Player Inside perché hanno scoperto che sono Juventino ma chi se ne vote di gente così ecco no non parlo di quelli parlo della gente proprio cattiva e tossica proprio boh ma come Raiden e Juventino aspetta che lo vado a bloccare viva lì boh ma era Luca? era Luca ha detto viva l'Italita ha detto viva l'Italia boh Luca stai male comunque è il diffuso della nazionale comunque c'è da dire che io voglio di una roba mi sono scordato per colpa di Luca che ha detto le sue solite stronzate vabbè non pace comunque non parlavo di quella categoria lì cioè si cazzi dell'azion merda se della questo lo sfottò molto molto tranquilli ci stanno cioè per esempio li sfottò tra Pisa e Livorno no? come città ci stanno sono divertenti anche no? ormai storia però se qualcuno inizia a prendere seriamente addirittura a fare le risse per queste puttanate per difendere la storia di Pisa e Livorno eh mamma mia e lì diventa un po' problematico perché siamo nel 2021 magari abbandonare questi stereotipi sarebbe anche bellino poi se è goliardico e ci si scherza oh è gansode tu potrei parlare di Kingdom Hearts quando avrei giocato almeno il 30% della serie Lull sai che l'ho finito Kingdom Hearts ma il primo? no l'ho finito tutti e tre ho fatto una maratona ho fatto l'uno due e poi quando è uscito il tre l'ho fatto beh tutti e tre un po' poco effettivamente vabbè non ho giocato quello sul telefono non ho giocato quello sul Tamagogi non ho giocato quello su PSP c'è tipo il Bear by Sleep il più importante della saga penso però vabbè ho visto no fidate ho visto certi video su Youtube incredibili dove fanno dei riassunti assurdi su quelli che non potevo recuperare perché erano su console che non esistono più ce n'era uno su Game Gear uno su la PSP Dio Pisto Game Gear non credo gli anni 90 ma poi comunque ci sono le collection che contengono tutti i capitoli quindi non è vero però vabbè ce n'era uno che era uscito su sull'Atari vabbè ma batte un affanculo Diego Game Gear cioè l'ho fatto 1.5 1.2.5 l'ho fatti poi mi sono andato a recuperare i video di quelli che non giocavo c'era quello per telefono e in altro memory chains of memory e birth by sleep chains of memory e poi quello però lo vorrei giocare sulla congresso c'era uno anche per PSP ho sbaglio no il break by sleep era per PSP originariamente il chains of memory era per l'advance gameboy advance quindi non ho detto tante cazzate alla fine quando ho detto Game Gear però vabbè insomma Game Gear era un po' indietro vabbè perché ero fissato con il game game invece poi era una merda sì sì era veramente una cagata io ero innamorato io me lo prestarono ma era era ingiocabile era veramente ingiocabile poi c'erano 200 batterie mi ricordo ma le dire è una bellezza sì Sega Mega Drive Sega Saturn e il coso e il Dreamcast quando è uscito che bello che è Sega Mega Drive era ganzo a parte il chip sonoro poi era una bomba ma io l'ho comprato su ebay quest'album ragazzi l'album è un box di figurine però non so se c'è un'offerta del genere su ebay di qualcuno che cioè era proprio sembrava fatta apposta per una live l'ho preso anche se ce l'ho già completo a casa dei miei peraltro vorrei fare un discorso un po' particolare dimmi no è una cosa importante che molte volte si dà per scontata ma in realtà sto sentendo da più parti che non è così scontata e cosa come la posso spiegare che poi non so capare la percezione distorta del di me per esempio delle mie cazzate o delle cazzate di Luca che magari in alcuni casi non vengono prese con divertimento e ilarità ma vengono prese come porco due ma sei stupido ma che cazzo dici deficiente ma scusa ma perché di nuovo questo discorso cos'è successo perché cioè si è fatto mille volte no perché ultimamente stori eh no ultimamente stori senti ancora questa questione forse perché è arrivato gente nuova ma è buono è buono se senti questa capisce capito bene il contesto no secondo me intanto ci sta a ricordarlo stavate parlando di me chi è bella Luca ciao Luca no in generale della percezione un po' distorta ma vuol dire secondo me è buono secondo me è buono Diego perché vuol dire che sta arrivando gente nuova e gente alcuni non capiscono sono cazzi loro se ne andranno a fare in culo come è giusto che sia però la gente che invece è intelligente rimane tanto la gente che conta è intelligente perché il pubbio tossio che rompe coglioni per ogni stronzata non serve a niente cioè serve solo a rompere i coglioni comunque non mi preoccuperei più di tanto oggi mi sono fatto un giro su video sotto a video di Carmelo Bene c'era gente che insultava anche Carmelo Bene perché non capiva che prendeva per il culo la stessa gente che lo andava a vedere Maurizio Costanzo Show e lo prendeva per il diceva ma come fa a dire certe cose piangeva cioè ora ovviamente non ci possiamo nemmeno minimamente paragonabile a un'unghia del piede bene però è per fare un esempio che il pubbio non capisce una sega né dei geni né della gente un po' più facile da comprendere tu dici da una parte c'è ragione pure io faccio questo discorso ovvero del sbattermi nel cazzo di chi non capisce però secondo me c'è anche magari spiegare un po' a chi non è avvezzo alle nostre cazzate che siamo fatti in un modo alcuni di noi cazzeggiano molto e la buttano di fuori come dici tu e ma cazzi loro Diego ma che sono cazzi loro sì ma ma sbattetene anche perché ci sarà sempre quello che sicuramente avrà da ridire cioè poi a me piace spiegare comunque sì ok è bello spiegare però la gente che ti può ascoltare Diego cioè che cazzo spiega la gente che tanto può essere venuta ecco 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 oggi stava giocando Isaac no? ok? e con Isaac è entrato un botto di gente nuova ho visto l'ho visto dal fatto che molti spavano le emoji di whatsapp e quindi? e quindi c'erano alcuni che si incazzavano con la chat perché dicevano che mi davano consigli sbagliati di lasciar perdere perché avevano visto qualche video di Sabaku su youtube allora io ho capito ah ok e ho cominciato a fare una specie di di introduzione al canale per spiegare comunque che la chat è così perché mi piace e ho fatto eh no ci sta a spiegare bello questo snorlax bellino che dorme con il zzz bellino madonna le emoji di whatsapp rica sono impressionanti bellino anche questo blast toys io sono contento così io potrei fare tutta la vita questa cosa qua ed essere felice io sono felice solo con queste puttanate vai avanti Diego vai avanti scusami no 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 la community di Isaac in realtà non è tossica anzi molti ci stanno sul pezzo però alcuni non sono sono su twitch da pochissimo proprio poco poco e secondo me ci sta ogni tanto spiegare come funziona così non so sta mi ha dato questa shard che raviva la fiamma soffiandoci bellissimo questo è lo shiter di jungle che è quello di kensukimori l'artwork copiato in maniera plateale ma Luca è entrato sopra di questa puttanata e scappare o c'è no c'è non hai da dire niente in merito Luca no mi trovo d'accordo con Dada ovviamente e a proposito Dada ti faccio questa domanda visto che in passato me l'avevi detto magari può essere un buon gancio per dare un punto al discorso poi vedi tu insomma va bene mi dicevi insomma che eh meno meno ok no no mi dicevi semplicemente che in passato magari c'era qualcuno che ti scriveva privatamente ti chiedeva ma Mangaka è davvero così qualcuno Luca qualcuno ma ma è strano questa cosa perché anche a me l'hanno chiesta a me mai Luca io sono convinto che se ci fossero le fiere nel mezzo me lo chiederebbero tutti di persona tipo oh Dario vieni un attimo Wiss senti un uomo Luca così tranquilli e tu Dada come rispondevi? no ma mi padre l'altro giorno è andato al lavoro in fabbrica e un collega che ha chiesto ma Mangaka è davvero così a mio padre? non penso un fan io risponderei un 60-40 no cosa rispondevi? cosa rispondevi tu? 60-40 io in realtà dico sempre Luca in realtà è un ragazzo normalissimo è un po' un coglioncello come me e gli piace e fa questa parte qui tutto qua è sbagliato è venuto in mente giusto ma poi le persone che dicevano è una persona normale ogni tanto va a tarandello no io dico dico sempre la stessa cosa dico no Luca è molto intelligente da alcuni punti di vista totalmente netto alla vita su altri però la sua furbizia è stato sfruttare la sua totale il suo totale vivere tra le nuvole in un potenziale cioè l'ha trasformato in un potenziale unico che fa ride e fa divertire tanta gente questa è la mia risposta a base mi sembra molto coerente poi ovviamente è normale che magari diverti molti e altri invece da fastidio come tutto cioè qualsiasi cosa cazzi loro qualsiasi cosa uno fa su cassero cioè basta io mi sono preoccupato fin troppo del pubblico che tanto ah vi faccio un esempio c'è un tizio che è sotto tutti i video dei freebooter e commenta sempre in maniera negativa rompe il cazzo per tutto ho messo il video di Gundam ha commentato il mio video di Gundam ha scritto Dario non ti seguo più molto sono tanti mesi che non ti seguo però ecco questi video mi garbano tantissimo come sono tanti mesi che mi segui ogni secondo commenti tutti i video di tutti i freebooter mi segui da qualche mese mi sa che è una bella l'azzata non va bene niente non ci sono più momenti culturali fai il momento manga eh però il momento manga banca il montaggio va bene fai unboxing da tanti soldi eh troppi soldi far unboxing più ricercati eh però non va bene mai nulla non va bene niente contanto quella gente non si accontatterà mai su casse e via giusto giusto ci sono tante cose da fare quindi ci sta comunque Dada dai una risposta no ti devo dire una cosa Luca dimmi no non me lo fa col tono serio ho montato degli scaffaletti dell'Ikea per metterci i fumetti Billy chi è Billy è Billy è il nome dello scaffale dell'Ikea prima si chiama Eket ah più piccolo allora ok Misty si chi era la waifu ok ah Misty e ci ho messo tutto berserk e mi era avanzato uno spazio e ci ho messo Death Shield dalla fine dopo berserk ci stanno benissimo vicino peccato che ti dico no allora in realtà poi in futuro se avrai anche manga J-pop mettilo lì perché è grande uguale berserk è un'edizione strana che è un pelo più alto dei manga normali di panini è un pelo più alto proprio è la serie nera un po' ciò si si esatto quindi anche se tipo prenderai l'attacco dei giganti sappi che sarà un pelo più basso rispetto a berserk no ma li dividerò poi su altri scaffali ah ok allora va bene allora va bene quindi mi sa beh sto pori confrontale tremendo sto arcana non è male però dai c'erano sempre delle cose strane tipo sto occhio non mi convince se si appiccica la criniera comunque mi sa che ora iniziano a fiori ah ora posso completare bella la linea evolutiva di Blastoise dai 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 ecco lì finalmente io Dada credo che alla fine ognuno debba coltivare il suo orticello ma di cosa stai parlando? è del discorso di prima quindi pensa a coltivare il tuo orticello e non curarti di quelli che ti dicono che il tuo orticello è brutto che quel fiore non va messo lì lo devi spostare ma il discorso non è mai quello io odio fare questi discorsi non è quello discorso io quando parlo di di queste cose perché a me piace proprio cioè sono proprio appassionato ormai di di questa sorta di visione antropologica di Twitch mi piace? ok cosa vuol di visione antropologica in che senso? di come si comportano le persone i nuovi arrivati su Twitch di come ci vedono di come percepiscono quello che facciamo capito? questo è il quale adoro voglio capire questo faccio pure domande strane la gente capisce ma che hai capito Dada ti fai troppe paranoie porco due non è una paranoia a me che mi piace proprio sì però che ti fai troppe paranoie è vero stronzo sì ma non lo dico su Twitch in privato ah sì no lo dici mai mi fa parlare mi fa parlare su Twitch che dico su Twitch? fammi stare zitto fammi stare zitto no in live dico sì ma anche in live dici delle tronate a volte mi verrebbe poi di entrare dentro lo schermo ammazzati boia quali? che cazzo dici? allora l'altro giorno lo posso dire? sei sicuro? beh dillo se l'ho detto in live l'altro giorno veramente si chiude la live ho fatto la live molto bellina ho visto i suoi video tutti contenti tutti a spammare le mot giuste al momento giusto come piace a te hai fatto il gioco ti hanno seguito anche nel gioco finisce la live sta per chiude bene ragazzi questo mese con gli abbonamenti una vera merda bene è uguale chiudo la live fate a modo ma non lo dire che è andata una merda stai zitto zitto devi stare ma scusa hai fatto una live bella e tutto quanto dici che con gli abbonamenti è andata una merda ma sei pazzo non le devi dire queste cose di grazie che vi siete abbonati non gli abbonamenti sono andati una merda matto ma brutto strozzo seppure tu l'altra volta in live vabbè mi calerai andrò in Giappone vado a Shibuya ma cosa ci incastra ho detto a 45 anni cosa ci incastra ora scusa di cazzo shonan shonan non Shibuya shonan siamo scesi sotto i 9000 questo ho mai detto mai detto in live Dada si ringrazia per le sub beh comunque in generale questo te lo dico insomma da da novellino l'hai detto l'hai detto l'hai visto stavo si si eh bisogna sempre ringraziare l'hai detto no ma ho detto io ringrazio sempre ma poi qua non ho detto a sta cosa che cazzo stai a dire sono tutti in positivo i mesi stanno andando io ho una pessima memoria ma queste cose non le scordo mai oh Marzo è stato ho fatto il record a Marzo ma che cazzo dici va bene Diego va bene l'hai voluto tu l'hai voluto tu vabbè è pazzo comunque Diego se posso spezzare una lancia a favore di Dario in realtà anche tu mi hai detto no tranquillo Luca è fisiologico adesso è il mese quando parlavi con me ti ricordi tutti i grafici le cose tue beh eh mi hai detto che era normale quindi non ti arrabbiare se so di meno del mese scorso non ti arrabbiare fisiologico vabbè vabbè comunque uno ha scritto in chat tra le virgolette è finita la golden age no mi sa che si riferiva a te a me può essere golden age non è il mio è un vecchio meme tu non lo conosci perché non ci si conosceva ancora praticamente un tizio io facevo live no da 200 300 spettatori e rinacquero i primi video dei freeboot no c'era son barba ok più che altro c'era solo son barba credo e un tizio commentò incazzato come le belve non so se sotto un video di son barba o sotto un mio video e dove diceva basta adesso dividi là di su di giù vedi cosa ti sei abbassato a non mi ricordo che video ho messo un video scazzo credo era un video di son barba dove sei ridotto a fai versi fai schifo dividi là una vita passata sei ridotto e chiuse il commento dicendo Dario Moccia arrenditi è finita la tua golden age due mesi dopo è scoppiato il canale twitch tutto senza controllo è andato e diventò un meme istantaneo perché è finita la golden age iniziò praticamente la golden age fu veramente divertente e poi io me ne fotto di questa roba però mi fece ridere il tizio che si incazzò come mostri a caso ecco qui l'evoluzione ragazzi di Farfetch in dodo ufficiale non te lo vorrei dire ma che ti fa le paranoie si vede va bene tra l'altro vorrei segnalare un altro errore in quest'album che nelle sagome che ci sono sotto tipo ci sta nei pokemon d'erba ci sta Golbat è giusto è giusto ah perché siamo confuso con le carte che era sotto erba no non c'era il veleno ma in realtà ragazzi la posso dire una cosa voglio spezzare come dice Luca una lancia in favore di Diego calcolate che Diego è stato 4 anni a parlare al vuoto perché c'era gente che non lo comprendeva a mia parere non lo comprendeva non lo capiva non capiva il suo talento quindi ora che è scoppiato e finalmente la gente si accorta si accorta di lui del suo talento che fa ridere che è divertente la sua compagnia e tutto il resto ovviamente è geloso di questo suo pubblico cioè è geloso vuole conservare questo suo pubblico e se lo vuole portare avanti quindi ogni tanto due paranoiette ci stanno ecco però non le dire in live dio cristo questo è il discorso che faccio io ma le dici pure tu le dicono tutti in live madonna ci cascano tutti nel dirlo in live è normale è umano si si non ti dico che devo diventare più professionale è vero quello c'è è vero probabilmente non ci diventerò mai va bene è proprio questo è il bello è come andare dall'artigiano ecco la che vuol dire è tu in realtà quando vieni su Twitch non cerchi una cosa professionale come se fosse meccanica perfetta cerchi piuttosto l'asse di legno dell'artigiano non quello di Ikea quindi è bene che tu sia artigiano no Luca perché proprio per quello che ti ho detto per la mia visione antropologica di Twitch gente che vieni su Twitch non sa che cazzo è Twitch e te spama quelle di mochi di merda cazzato nero quindi non sanno se c'è sta l'artigiano o se c'è sta l'Ikea comunque non sta spuntando ma tutto sto casino perché oggi tre persone ti hanno messo le mochi di Whatsapp in pratica quello mi fa rire no quello mi fa rire mi diverte no quando vedo queste cose mi si addrizza al cazzo perché ho capisco che c'è sta gente nuova che approccia anche nuove fighe è bello è bello no quello non mi interessa non basta finito chiuso ah si finito mi sono nuove si 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 è possibile Dada cosa io t'ho conosciuto cioè eri quello che c'era 18 stream aperte con tutte le streamer e adesso mi dici basta che è successo c'è presente quando soffi quando confi il palloncino e poi fai il nodo con la fine dove hai messo la bocca insomma del palloncino sì eh quello ho fatto col cazzo ho allungato e l'ho legato così l'importante è che adesso ti senti meglio con te stesso ho fatto la teccia alla mozzarella esatto è finita la golden age anche per il cazzo ti dà vorrei dire che adesso scoperei tantissimo è Masullo Raiden la carta più bella di Dario ah si è vero lo sai Masullo che Diego ha una perversione per la tua carta Masullo è veramente bello effettivamente no è bello è bello è la sua preferita ma secondo te Dario sarà possibile completare questa collezione ma questa qui delle figurine o la mia sì sì questa qua questa qua così che c'hai ho capito che hai comprato un box insieme all'album secondo me sì vediamo questa ce l'ho anch'io però di che anno era? 2000 in 2000 ah ok ok è di 200 pacchetti sì pure mi vorrei conservarmi li chiusi sinceramente vediamo che succede non so a me sembra ne manchino 3 o 4 Charizard ancora niente niente non è spuntato in nessuna forma Diego Angelo ha 6 numeri 11 di Berserk ragazzi ma ha risolto il mio problema comunque quindi ma non ne ha fatto vero è Domenico che c'ha i numeri di Berserk così presi a caso l'altro me ne mancano pure altri spero che mi ha detto non so chi l'altro giorno ha detto che ristamperanno tutto a Berserk lo stanno facendo mese dopo mese ristampano qualcosina lo mettono o nei box o singolo sto mese ne hanno ristampati devono fare il box 11-15 no? sì 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 anche Buonanotte Pum Pum stanno ristampando pian piano Dario tutta la chat dice no perché hai sbagliato ancora qualcosa rattata su me o mi dicono cazzati neri eh ragazzi è finito ah è vero è finito nicchia vabbè ce l'attacchi sopra sì va bene Diego ok stavo ascoltando i miei amici e mi sono distratto succede a posto ah vedi si è staccato senza lasciare la carta sopra no no sono figurine fatte bene a posto era fatta bene una volta non c'è più le figurine di una volta Dada Merlin insomma magiche ma poi sono attentissimi cioè non è che ci ascoltano no magari sono sopra anche loro tutti all'unisolo hanno capito guarda con gli occhi sbarrati sul monitor un centimetro dalla faccia oggi ho messo mi sono messo a attaccare gli scaffali la prima cosa che hanno notato è stata la mia panza guarda che buzo sovruppo telegram c'è un elogio sulla tua live guarda che buzo guarda che buzo ma sempre ride però body shaming totale infatti ho detto sto contando i body shaming grazie vi segnalerò tutti a fine live e loro spaventatissimi immagino hanno cominciato spaventati e moci con le lacrime tutto a posto? si tutto bene no mi è emozionato lori che gioco è? senza punto interrogativo poverino lori ho avuto un grave lutto cioè? è morto il suo cervello mi ha batto una faccuna guarda che belli i miei fratelli Magnemite e Magneto non è per niente pigra tra l'altro come evoluzione allora ma aspetta ma quindi ma quindi? quindi con la Superlega la Lazio va in Champions oh i menati ecco che fatica no la Roma è in Champions fa affanculo no perché già hanno deciso sta cosa no dice che se finisce così c'è un bordello la città beh ma alla fine già lo sai chi vince chi Interz? eh un po' come la WWE tipo vince lo sport non credo ci siano queste cose Luca ok Dugong Masho oh che culo il lusso bella Nanni bella Nanni c'è Nanni dentro? buonasera ragazzi come state? ciao eh bene visto che oggi chiudevate la serie TJ Taz sì abbiamo vinto a te ne ho fatto l'amore ok Dugong Dugong ma ciò che ok ah ok non sapevo di essere entrato alla stella vabbè alla stella? no ma non sono le carte queste sono le figurine non c'è la stella no 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 ma è un'altra stella che però ah che scusami non so se ho inteso però no sì c'è la stella dei mates la stella dei mates anima confuso tu tu spiega che stella è? che stella stai dicendo? ma perché è l'altra dei mates scusami è perché è la quinta stella dei mates pensavo volessi dire madonna Luca ma poi ma dove viaggia il cervello? non c'è la sabbi no ma è tipo un animale perché è la quinta stella dei mates se a me sei delirio Luca comunque abbi pazienza cosa ne pensi dei mates Luca? vuoi una tua opinione sbarazzina sbarazzina come solo tu sai dare un gruppo di amici un gruppo di amici creator che si si divertono facendo ciò che ama no madonna che paraculata infinita incredibile devo un cristiano puro è dell'ottico non ne leggi sul privato se è giusto prendo le distanze sto proiettando discord ragazzi prendo le distanze assolutamente no ma poi c'è Simo che ha scritto ciao data ciao dare un abrazo si si c'era anche prima Simo gli ho scritto tipo più volte su whatsapp non ho mai risposto però io ero preoccupatissimo per lui come stai come non stai niente nessuna risposta ma è il solito un giorno di umano gli cavo sul divano mi ha messo una strada dove il coniglio gli leccava la testa chi? falconero youtuber mister wolf falconero è da Lazio porco due è da Lazio noi siamo Luca dimmi Nanni che ne pensi dei tiktoker su twitch dei colleghi se sono su twitch sono tutti colleghi ma ti giuro zero ho visto allora l'altro giorno mi aveva scassato eccoci bella weeping bella victory oh bello psai da colo questo sono troppo doppio dormaseale è troppo bello ricordo la nostra infanzia comunque l'altro giorno mi avevano rotto retalmente tanto per cazzo con questo green baudè quell'altro mi si ama jody si allora sono andato a vedere chi sono ho guardato e ho detto ok visti e poi è andato via ma non capisco dove sta tutto il clamore io ho detto faranno vedere le palle in live ogni due per te no no succede dei grandi ma dei grandi sono ragazzi normali chiacchierano ma cioè si ho capito che cazzo sto facendo anch'io accidenti a me stavo poi sbagliare si si mi sono accolto ragazzi tranquilli alla sovrappensiera anche stavolta madonna guardali cazzate come su no no che hai fatto che hai fatto no 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 raga raga ditemi che fa l'oggetto non mi scrivete no scrivete che cosa fa porco ottenci vabbè io oggi su dark souls fa tv piccola chat e sono venuti quelli tipo con le pille che un colpo gli uccidevano cioè boh veramente no che stronzo è un cazzo grosso ma poi cosa ci provo provano veramente cioè un po' sadico io una volta ho giocato su airstone in live no è stato un tizio mi fa dai ti sfido ho detto ok però io ho appena iniziato usa un mazzo un po' tranquillo si si no ma tranquillo a livello tuo è iniziata la partita ma ho cominciato a fare tutte cose strane che mi rimescolavano le carte scoppiava tutto il banco tutte esplosioni mille milioni di danni che riprendeva le io non ho mai giocato a fine della partita ragazzi io per ora comunque non ho trovato ancora un doppio cioè incredibile sto attaccando figurare zero doppioni l'hai finite o no finite no però ti giuro è zero doppi non so se ha scritto Simone vuoi un box scriptato nel senso che le trovi tutte però è incredibile ho avuto fortuna e basta per ora è zero doppi zero doppi ma anche zero charizard è vero ora mi tocco i coglioni perché oggi ho trovato finalmente un charizard di una collezione che non trova oggi ho trovato due robe che mi hanno permesso di completare due collezioni che non finivo da anni non di carte pokemon ma di robina similare sono contentissimo veramente è stata una giornata ganza da quel punto di vista Dario Simone ha scritto che legge sempre ma sti cazzi Simone se leggi sempre sono contento che tu accresca la tua cultura però dio madonna rispondi ogni tanto impara a rispondere è la prima cosa che ti aiuta Cristo ci tengo lo sai ma vai a fare il culo stupendo quel charmeleon ho lo di prima è pazzesco però l'ho lasciato perdere ma subito pronta non ti vedrai lei il cazzo come? no già hai brutto me lo riccheresti il cazzo no vabbè sincero però che domanda è poi noi siamo i mates pronti ecco blast toys attacchiamolo fiero da una charizard charizard è stato scammato da questo album bello blast toys bello tarchiatello lo facevano ai tempi mi ne fregavano il cazzo le proporzioni e beh tartaruga deve essere piena eh sì sono entrato in quella pecorina eh sì vieni vieni fa le mosce dario simone scrive canta cocktail d'amore di cristiano malgioio luca per favore ma non è interattivo simone luca dario siamo in tanti stasera l'altra volta eravamo solo io te ma sei oggi siamo tanti ti dosso tutto ti faccio arrestare luca se apri il testo su internet la fai a modo tuo e la reinterpreti potrebbe essere un'idea ma anche se non so il ritmo ma anche se non so il ritmo va bene uguale ti spaccio la testa nanni calcola certo è una cove ti spacco la testa ok è una cove eh dario lo faccio per un bene più alto però ti banno luca ti sto bannando dal discord adesso no no simone mi ha detto che non sta bene che vuole sentire mi cantare ti sto bannando dal discord adesso in questo momento no no non mi bannare non mi bannare no no di nuovo 10 volte che mi banni già non mi bannare basta non canto non canto ecco non canto aspetta vabbè ti banno ti lavo tutti i privilegi per un anno un anno te lo giuro un anno lo faresti sentir meglio luca danni hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo dario ha scritto che non riesce più a sorridere si luca hai rotto i coglioni te il tuo karaoke di merda ma insieme non è qualche manga inutile da leggere al posto dei manga boni così puoi farci un video stai con me con me con me io voglio un incontro felice ti sto bannando stavo leggendo una cosa un messaggio la voce alta mi legge così cadabra quando lo pulliamo non lo so quando lo pulliamo è il mio preferito insieme a Charmiglia quando lo pulliamo posso consigliare una cosa a tutta la chat anche a voi in chiamata discord occhio se mi permettete occhio e mi consiglio ieri notte ma che cazzo poi ieri notte ho visto un documentario su Netflix l'ho detto anche oggi live ma cioè mi ha colpito talmente tanto che sono che voglio ricondividere il più possibile si chiama il mio amico in fondo al mare documentario su Netflix Netflix è meraviglioso è la storia di un di un documentarista che fa amicizia con un polpo ah ho visto su YouTube Alberto Journal Live è tipo ma cosa fanno insieme perché ti è venuto insieme in mente mentre pullavamo le carte è perché è venuto in mente non ci stavo a ripensare mi ha colpito molto è molto molto bello ma cosa giocano è vero ma cosa giocano a nascondino cosa portano su Twitch non so se sono amici faranno qualcosa d'amici pullstream non è che vanno a card vanno insieme vanno a cozzia Luca è vero è racing sleeper è racing sleeper perché è molto rilassante sono d'accordo sono d'accordo con voi però è molto bello no non ti sei accorto che ho detto prima spam di racing sleeper e di racing sleeper in chat detto adesso ah no non l'ho sentito ok l'ho attaccato tutte tranne queste qui che sono rimaste fuori delle evoluzioni apriamo pacchetti la cosa più divertente che fanno Nanni qual è se me la puoi descrivere no non c'è niente di divertente Luca è semplicemente questo uomo che ogni giorno è un pochino ogni giorno va a trovare sto cazzo di polpo e poi muore va bene Luca il polpo il polpo nel senso chiedo c'ho tanti cuori hanno un anno di vita i polpi quindi però hanno tanti cuori mi hai fatto venire in mente che a me quando guardo i reels su no i t-shirts su youtube mescono fuori quelle tipe che fanno mukbang e si mangiano sempre i polpi interi ah quelli che si muovono però che poi il polpo c'ha guarda Luca eccolo l'ha pullato l'ha pullato bellino l'ho visto un secondo dopo tutte carte che mi mancano è fossil dai scriptato il box è impossibile ma è figo cioè se magari li facessero adesso i box tu compri un box e c'hai tutto però ti garba anche spacchettà capito se riguardano invece quei cazzo di mukbang io ti giuro li odio agnese riguarda di brutto io non ce la faccio di solito riguardo le cose ma i mukbang non ce la faccio oh james james con la roll eccolo io mi so posto un obiettivo in questo 2021 bellissimo dici fare la caccia e pepe perfetta madonna che palle io molto difficile Zadano mangiata una stasera di caccia e pepe me l'ha fatta Giulia vegana ovviamente era con mandorle pazzesche caccia e pepe vegana è buonissima non è una caccia e pepe buonissima non è una caccia e pepe luca porca due luca madonna che schifo luca battene non fa la pasta alle mandorle mamma mia no no dopo è inizioso esiste la pasta con le mandorle è tipo una pasta siciliana c'hai messo le mandorle e i cazzi caccia e pepe e mandorle e cazzi oh allora da da ti dico dove devi andare a guardarla pensavo divenne affanculo luca luca voglio dire forse oh 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 eccolo fiero guarda lebellino ti indica fa tu tu cosa tu cosa partorirai con dolore gioio voi comunque la caccia e pepe è molto difficile data che fa l'emozione perfetta ho scoperto che per non farlo filante deve stare sotto i 60 gradi eh sì è tutto a temperatura per l'emozione tutto quello sbordo guarda basta che vai sul profilo instagram guarda che bello te lo scrivo bellini tutti così hai visto ho gli do foco fatti beh cadabra troppo bello cadabra è che un cucchiari vabbè ma due cucchiari non è troppi è troppi cucchiari due cucchiari è troppi va bene che si dì alfabeta no che cadabra c'ha un cucchiari solo la kazam c'ha due cucchiari però è troppi cosa ne pensi di mega alla kazam Luca no 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 io mega non le penso pullappalo un po' non le concepisco io un po' pullappalo piano piano va bene panentiche mamma mia cosa ha scritto l'ha visto l'ha visto una foto che devi vedere però poi la vedrò poi la vedrò molto abbronzata scusate hanno suonato sì sì vai 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 pure particolare questo poi assuonano alle due giustamente è giusto è la finanza sì la finanza sono molto depressi quei pikachu sul background sì perché sbollano i culi ah eh per cui non sono anche felici sì sì Dario puoi guardare solo i pokemon Dario se stiamo facendo i pokemon si possono cantare se te lo prendi i pokemon vado a vedere un attimo non una finalmente finalmente è reale sono contentissimo che sia reale deve essere un po' storta questa eh no perché sto seguendo il disegno preciso e quindi va un po' storta purtroppo non le stampano precise precise ok però però se segui il disegno in anni vanno dritte quindi tutta bellina capito eh vedi cioè l'importante è seguire il disegno non tu devi metterlo purtroppo non ci fai niente su quello guarda che carino sto dratini è morto tutto così accoccolato sembra un furetto è morto ma sembra che c'è una zanna è nel buo del culo no non credo è sulla faccia no 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 è la parte sotto del collo in pratica Nanni non è la zanna c'è solo quella verruca strana in mezzo alla testa quel porro lì e basta perché c'è tutto apposto eh no era wheezing che tossiva no io Cristo bestendo la madonna ora oh guarda che bello doppia pagina completa fiera e manca i cants eccolo manca i cants dopo questo fai anche l'album dei calciatori eh guarda no pass c'è l'album della super lega sono tre pagine ok finita la linea volutiva di firefetch dog è impossibile però va bene così è che se lo porti a livello 100 poi gli dai tre calamelle rare e lo porti in simulator dei cieli dopo diventa un duktrio va bene come si appicciano oh jinx la pelle come ce l'ha ragazzi nera o viola jinx no scura è truccata nera qua ah quindi non l'avevano ancora non l'avevano nerfata ancora nerfata però le mani sono viola sembra bello quel ceo tutto si un po' bello dinamico si si ma perché in america gli cambierano colore a jinx giusto si viola perché ovviamente sembrava una blackface in realtà non era una parodia degli afroamericani ma delle ganguro solo che in america non non sapevo che cazzo fossero le ganguro cioè c'era questo c'era questo questo io vuol dire equivoco eh culturale vabbè all'epoca lo facevano pure con Mr. Popo in Dragon Ball eh per forza però Mr. Popo secondo me è una blackface per davvero ganger jinx no perché ha capelli cioè era proprio una ganguro le ganguro ragazzi era vabbè diciamo che era un fenomeno culturale nato in nei quartieri della moda principalmente da Rajuku dove praticamente c'erano queste ragazze che si decoloravano i capelli si truccavano in maniera vistosissima si mettevano le ciglia finte insomma il trucco eccessivo capelli colorati i vestiti appariscenti tutto per andare contro diciamo ai dogmi della moda giapponese oh eccolo e poi fiero bellissimo eccolo questo è veramente l'unico fierangelo buonarroti ecco anche Brock con una fronte abbastanza importante come la mia comunque c'è jinx anche per essere una ganguro era un po' esagerata perché comunque la pelle ce l'avevano vabbè le ganguro non sono esagerate la me invece è Luca le foto delle ganguro vere c'è una idea sì 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 però se dipendevano la pelle tipo sembrava come uno che si fa tante lampade era proprio marroncina c'era roba puoi fare box tutti diversi si può fare ma l'hanno proposto anche a me però scusa numericamente l'album da quante figurine è composto non so tipo 300 sono 300 no un po' meno forse più le special sono 200 240 più le special saranno sì 300 però è impossibile quindi forse le opzioni se sono 100 pacchetti da 5 figurine 500 figurine tante le pagine completo ormai è improbabile che non ci siano 0 doppioni 0 proprio i doppioni per ora 0 Luca 0 assoluto è impossibile era sigillato il box quindi sono box che con tutte figurine diverse ci sta visto che sono 500 e lì ce ne sono 300 circa appunto le iniziai a aprire dall'alto o tipo stai facendo una una sulle due colonie dall'alto le sto aprendo in ordine diciamo perché sono due colonne perché non l'ho visto come ha fatto il box sì sì sono due mazzetti da 50 ah ok con box quadrato come lo facevano anche per i calciatori negli anni 90 ma a saperlo sai quanti soldi risparmiavano da piccolo andavi una volta in edicola prendevi il box completo e via e via sì però dove avevi cerchi soldi 6 genitori non è che mi garbo già i miei aspettavi 6 mesi anziché prendere una figurina a settimana la domenica andavi lì piano piano boom tutto insieme c'è il box non si era così lungimiranti da piccoli no zero c'era un boom assurdo con i pokemon non trovavi mai le figurine dovevi metterti d'accordo con l'aticolante che praticamente glielo pagavi il giorno prima che gli arrivavo che non parlava delle carte ti immagini quante prime edizioni sono andate a puttane per il colpo della gente che ci ha capito una sega mamma mia charizard prima edizione Ettore ha visto che gli hanno dato a bgs 9 probabilmente ha mandato un charizard prima edizione in bgs ha preso 9 quasi 9 e mezzo gli stanno offrendo anche la madre che culo Ettore bellissimo charizard prima edizione in italiano tra l'altro sta raggiungendo dei prezzi allucinanti sono contento sono fierissimo di averci preso anche lì perché le italiane stanno veramente salendo tanto 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 non come le americane chiaramente ma però hanno la loro dignità boh vabbè bgs 9 c'era il prezzi di italiano stupendo io c'ho il set base quello da c'era il machamp ancora sigillato ah e si il deck vabbè quelli li trovavi sempre in prima edizione si si li trovi ancora ce ne sono si anche perché quindi sono unlimited praticamente sono tutti uguali oddio sto leggendo una notizia interessante tutti i frontali pj pj8 pj ma vai dici è il presidente del real madrid ha fatto un discorso perets oggi riguardo la superlega ha detto vabbè a parte prima ha fatto tutti i conti ha detto che stanno fallendo tutte le squadre per colpa della pandemia e vabbè quindi devono trovare un modo per rifare i soldi ha detto il calcio deve rivoluzionarsi come lo facciamo noi nella vita come persone internet ha cambiato il modo di relazionarsi il calcio deve aggiornarsi il calcio sta perdendo interesse qualcosa dovevamo fare il calcio è l'unico sport che vale non c'è niente come il calcio anche la televisione deve adattarsi i giovani sotto i 24 anni al 40% non hanno interesse nel calcio perché ci sono molte partite di scarsa qualità e si distraggono con altre piattaforme breve si casseranno tutti per queste giocazioni quindi insomma anche streamer sapevo che stesse calando la percentuale di pubblico ma non è vero Diego ma non è vero dai è pazzo il calcio deve adattarsi ora inizieremo con tre paesi e cercheremo di cambiare a livello mondiale questo sport per portarlo ad un livello superiore la Champions sta perdendo interesse per come era come lo fece con la Coppa Campioni ma è un po' di verità in realtà c'è ora è esagerato lui nell'esposizione e nelle cose anche perché non esiste solo il calcio però è vero che si deve riadattare al mondo d'oggi se stanno a perdere tutti questi soldi abbassassero gli stivani dei giocatori vendessero calciatori insomma abbassassero un attimino il tiro e rimettano cioè se i calciatori del futuro saranno Zano questa gente su FIFA può essere no ma ci sta ci sta ci sta sarebbe il colmo i problemi degli sport insomma sportivi si 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 ci sono già però ma gliela dia che ci ha investito soldi agli investitori che che è così oppure domo chiude no in realtà no loro la soluzione stanno a fa la Superlega che poi eh lo so però per i loro interessi che cos'è spiega io non ci capisco niente dimmi ah Luca tra quello non è successo niente vabbè linguaggio semplice è il calcio è una nuova lega a calcio è un bel per la rivoluzione per le top 30 è una nuova lega fatta soltanto dai club di tutta l'Europa che c'erano più soldi sostanzialmente 15 squadri i campioni i campioni dei campioni sì come l'ambi tipo la coppa Berlusconi però con tutti quanti i più forti club perché così fanno soldi sui big sui big eventi che sono molti di più rispetto a quelli di adesso e quindi i finanziatori gli investitori e i media punteranno e investiranno nuovi soldi che adesso stanno mancando il campionato il campionato master di winning 11 era c'è un stagio il testo è al cazzo di carne ma winning 11 e cosa cazzo hai tirato fuori sì data ci parli tu quei calciatori e i loro procuratori io dico senti o fammo così oppure Real Madrid chiude domani non c'è stata più Real Madrid e poi va vuoi andare a giocare col Provercelli va c'è ti dà 20 milioni all'anno no e allora aspetta stai calmo stai calmo un attimo prima di andare a letto voglio farvi una domanda voi l'uovo come lo preferite l'esso affrettellato quindi quello sbattuto all'occhio di bue in camicia o artegamino affrettellato sbattuto io sono intolerante all'uovo io dipende dove me lo metti cioè par culo Luca dai allora cioè aspetta nel senso tipo nel ramen mi piace quello che è un po' duro tagliato a metà e poi tipo se no normalmente il mio preferito è quello adesso ti spiego non mi ricordo come si chiama in italiano che tu metti nell'acqua bollente poi giri si crea quella roba intorno buona è in camicia e all'ultimo posto quello che mi faccio io è occhio di bue lo metto sulla padella chiudo il coperchio un attimo e poi è pronto allora vi lascio con un consiglio quando lo fate strapazzato davvero è però perché ora stai cercando di recuperare terreno col cuoco no non sto cercando ho letto una domanda in chat di un ragazzo che scrivai adesso parliamo di uova quindi ho parlato di uova aggiungetici quando prima di sbattere ovviamente in padella è un pochino un pochinissimo di panna di cucina trascinate dall'esterno verso l'interno con una spatola per la cottura e poi del parmigiano pure grattato e vedrete che avrete scoperto il nuovo mondo e con questo vi do la buonanotte grazie Nanni alla prossima grazie grazie per il consiglio ciao 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 la panna nell'uovo ma questo coglione dai io ci metto un po' di pepe e poi è buono pronto va bene ma poi poi il poster lo attacchi su oppure lo lasci lì si lo attacco lo tocco in cameretta nell'ufficio proprio nel nuovo studio va bello in cornice prendi nel cornice 30x40 no Luca lo lascio così dai ma non so al contrario è un poster t'apposto Diego si grazie ragazzi ne mancano veramente poche di carte si di carte di figurine buono buono che poi una volta si chiamavano tutte figurine non c'erano le carte mai mai stato no no le chiamavano si i due come le chiamavano tutte figurine erano sia le carte che le figurine erano figurine pure i fumetti erano i figurine da noi a Napoli tutti erano figurine i ritrattielli i ritrattielli ma come no i ritrattielli li chiamavano i ritrattielli perché poi erano piccoli ritratti ci sta ma i fumetti si sia i fumetti che le figurine no i fumetti da me era ah da me i fumetti erano giornaletti e le carte figurine quindi figurine e giornaletti da noi giornalini erano ah ok ok ci sta ci sta e poi le carte erano i figurini comunque ragazzi allora se io adesso ora voglio fare un esperimento perché io ora ho riattaccato tutto no allora se io adesso trovo Electabuzz vabbè ora aspettiamo dai bustiamo un altro po' però veramente non ho trovato un doppione però ho scoperto una cosa no non c'ha senso con questo box break ho scoperto questa roba che era veramente interessante per gli appassionati sicuramente un'informazione ganz eh sì perché uno adesso basta si prende il box ma cos'è quel quadrato che appare ogni tanto eh non lo so secondo me è la telecamera che mette a fuoco non so perché sì che mette a fuoco i volti dei personaggi solo Brock vede come è volto ogni tanto ma le descrizioni accanto alle figurine sono come quelle del Pogadex sì 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 del Game Boy sì primo gioco o sono inscritte sono sempre state quelle allora vediamo un po' questa mi manca questa speciale qua Onix mi manca questa è l'ultima che mi manca per finire il quadrato sì dai ragazzi è pazzesco è scriptato è box cioè è tutto scriptato bello però ah li trovo di profilo Blastoise è vero sì sì no no ma Blastoise o Blastoise Blastoise ah è Blastoise pensati eh si ha preso Blastoise sì ma Savante pronunce io tipo Electrode lo chiamavo Electrode Savante pronunce sempre poico Pokémon sbagli sempre tipo io lo chiamavo Farfedetch ma non è Farfed Farfetch e la dì dove la metti e quindi noi la mettiamo prima scusa oh salute eh no niente Drowsy eblow eblow e Geridos come lo chiamavi Geridos no no Geridos Geridos si chiamava Geridos Geridos ah perché nell'anime anche lo chiamavano Geridos anche se pronunce se no sbaglio è diverso è come Charmander ma io ho un sogno eh di vedere quel video insieme a Dario vedere? il video insieme a Dario che video? quello di Optimus Prime no buona bello com'è venuto bene l'uomo ha visto è venuto così bene bello ma anche se vede l'intersecatura sembra una carta unica l'intersecatura ma davvero sembra una carta unica ok dei raga cioè ci siamo quasi eh ho quasi finito davvero comunque in questo momento a casa mia ci sono 6,5 gradi boh è freddo chiudi la finestra va bene se tu te c'hai la finestra aperta Luca che cazzo dici? come fa invece 6,5 gradi dentro camera? ma l'avrà visto no? l'avrà visto dalle temperature ma non in camera Luca vede fuori e tu a casa mia nel mio paese a casa mia vuol dire vabbè ma io c'ho la stazione meteo a casa Luca c'ho la stazione meteo professionale per quello fai sempre le misurazioni live infatti ho detto Dada che fa il meteo ma cos'è? che cazzo stai a dire? ho visto che ogni inizio settimana fai tipo il meteo ma mica faccio le previsioni qua a stazione la stazione è una cosa mia di casa non è una roba di pepe di pepe mi manca allora tecnicamente Dada è una televisione italiana su Twitch ma pure all'oroscopo Diglett praticamente ok quella speciale sarà o Jesse o un'altra che mi manca Diglett così mi manca eccola lì Jesse va bene donne ok bellissimo tutte quelle che mi mancano e quindi poi ricominceranno a uscire da capo magari scoprono che i pacchetti sono fatti uguali hanno le stesse carte ripetizione magari può darsi mister è divisibile per 5 la il totale delle carte non ti dico che ho finito ma ci siamo semplicemente che lo voglio sprecare ma anche ma la delle figurine dell'album è divisibile per 5 boh la Diglett ce l'ho ora guardo che figurine mi mancano a seconda di quello apre un pacchetto o meno guarda inizio da lì dalla prima faccia la prima faccia ce l'ho tutte qui manca i visauri i visauri non l'ho ancora trovato quindi mi sa che nel prossimo pacchetto ha grandinato da voi oggi ragazzi chat eccolo sole mi sa che questo è l'ultimo pacchetto ragazzi ho trovato tutta la roba che mi manca vediamo come no da solo a Roma era tempo brutto oggi oggi ha grandinato ovunque in Italia ovunque da me sole tutto il giorno sole e freddo però sole e freddo eh sì perché quando c'è il sole ti aspetti che sia caloroso invece era freddo ragazzi è confermato è scriptato davvero tutto tutto il box cioè non ho trovato un doppione e addirittura ho fatto le previsioni è scriptato quindi ora vi faccio un conto sono 100 pacchetti quindi se gli altri 50 possono essere effettivamente un altro album completo certo vediamo subito no pazzesco quindi metà no vabbè ma quindi hai esaurito una colonna aspetta lo dico subito Luca io sto andando a spazi liberi e se mi manca qualcosa apro per esempio coffing mi sa che non ce l'ho se no allora devi aprire un altro pacchetto no l'ho trovato ecco perché da piccoli lo completavamo tutti eh dipende se compravi un box intero sì cioè se compravi tranne io se è confermato io non ho mai completato quello di Space Jam che è sempre della Merlin quindi mi pare no è della Upper Deck quindi mi sa che no non è così poi mi dipende che politica ha all'azienda tipo Electabaz vediamo Mr. Mime però che inculata cioè quindi i pacchetti sono scriptati quindi se prendevi dei pacchetti in separata serie trovavi tutti i doppi se prendevi tipo 4-5 pacchetti a botta magari trovavi dei pacchetti uguali identici con lo stesso script bella inculata se vede che per loro era più comodo così tagliava diretto allora i Pokémon il Pokédex normale è andato cioè è proprio completato ora ti dico le evoluzioni ma secondo me ci siamo è finita che bellini due Mew eh sì beh Mew poi è molto sempre bello non so quante volte ho disegnata quella pagina dove c'è la Pokéball in alto a destra il Mew quello in basso a destra l'ascio in mezzo così guarda che bellino è venuto anche questo ok Socializar qui è preso dalle tops beh erano gli stessi quindi Ganza questa roba io sono mega fissato con queste curiosità qui quindi per me è veramente un colpo di scena niente male non me lo sarei mai aspettato dopo 20 anni di scoprire una roba del genere era tutto un inganno sì che poi non ci pensi cioè è tutto un grande una grande presa per il culo con 50 pacchetti dallo stesso box no non 50 ora vediamo perché secondo me non ho spacchettati 50 ne ho spacchettati meno però ti dico subito cioè se era 50 bastava spendere 25 euro e c'era l'album completo meno a tempi verrà un 500 quindi 500 euro a pacchetto perché non c'era ancora l'euro 500 lire sono 25 e poi un cazzo dei cazzo per completare costava 50 mila di airbox 25 euro più l'album l'avevi fatto finito l'album ragazzi ora ve lo faccio vedere tutto però prima vediamo quanti pacchetti ho aperto 24 25 26 54 quindi io ho spacchettato 46 pacchetti per completare l'album e qua probabilmente quasi metà sì un po' meno della metà c'è un altro album completo ma aspetta quindi io cioè tecnicamente è possibile prevedere in quale pacchetto sarà quale carta tipo se io dico sulle fasi finali sulle fasi finali sì no 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 ma ci sono sempre gli stessi tipo io so che sul 26esimo pacchetto magari c'è quella carta in base a come le stesse di prima dovrei spacchettare un pacchetto e andare a vedere adesso cioè quando magari monta il VOD squilibrista andare a vedere se c'è il pacchetto scriptato lo proviamo a scoprire tanto basta aprirne uno dai apriamo questo e vediamo se la stessa serie di figurine è uguale a uno di quelli che ho spacchettato prima ah dici per vedere se è proprio le stesse figurine nel pacchetto io non me lo ricordo magari è puttishiny no questo è il primo pacchetto che ho aperto con Agnese è spuntato da fuori me lo ricordo benissimo vero sì vediamo il resto sì ma oltre se è storto il dodo che ho detto questo fa parte di una storia di una storia particolare l'ho detto da Agnese no Rice non c'era però e Sanshu non lo so se ero uguale dicono che è identico dicono che è uguale ok allora è tutto scriptato ragazzi sono ragazzi dopo vent'anni scopriamo che la Merlin faceva i pacchetti tutti uguali pacchetti identici tra di loro pazzesco mamma mia la cosa più assurda è che tu veramente puoi pullare la carta in base a a dove sai che si trova cioè se tu tipo prima vedi il VOD che ne so al trentunesimo pacchetto hai tirato fuori Charizard vuoi tirare fuori Charizard prendi magari il trentunesimo pacchetto quella è la cosa più assurda eccolo qua album completo scammellin oddio forse è la cosa più onesta da fare in realtà non lo so se mescoli tutto è solo fortuna possiamo riuscire a calcolare qual era il pacchetto del Tangela così almeno lo sbustiamo per Masullo l'hai trovato subito era il terzo e il quarto però vabbè qualcuno vuole recuperare la parte del VOD quando l'hai sbustato la cosa incredibile sarebbe il fatto che magari il tuo punto adesso conti 45 pacchetti considerando che il primo l'hai già aperto riapri il 46esimo dovrebbe essere il pacchetto uguale a quello che è appena aperto che sarebbe il 46esimo contando il tuo ultimi il poster completo? non è che ci sono pagine interna no l'ho già controllato c'è bianco all'interno ok ok finito apri il 93esimo pacchetto e vedi se è uguale al primo trick finale ok questo è il secondo ok il terzo terzo quarto adesso fai quarto quinto sesto 44 45 quindi con questo ho finito l'album giusto? eh sì erano 46 46 ok quindi qui dentro quindi il 47 qua dentro c'è questo Vaporeon c'è questo pacchetto tecnicamente sì per ciclo sì se ho fatto tutto bene se ho fatto tutto bene è andata così pronto piano eh piano esplode tutto no eh però aspetta questo è uguale all'ultimo eh questo è uguale all'ultimo pacchetto che ho aperto ecco sì secondo me è che ho fatto casino magari perché alcuni li ha presi anche Agnese quindi magari si è un po' sminchiato l'ordine cioè più che altro aprendo anche altri pacchetti ho dimostrato che è proprio uno è uno script continuo cioè probabilmente li facciano tutti uguali oh sono le due e mezzo ragazzi grazie di avermi di avermi seguito in questa avventura nostalgica e molto 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 bellina devo dire la verità perché comunque per me aver pagato 200 euro per scoprire per aver vissuto ovviamente il momento nostalgico con voi dell'album aver completato l'album insieme a voi soprattutto scoprire i segreti della Merlin è stato veramente insomma ogni euro ho guadagnato assolutamente grazie a tutti